Ho iniziato a giocare a tennis che ero piccola piccola. La volta che sbagliavo riuscivo a trovare la soluzione. Il tennis mi ha introdotto tantissimo nel fatto di concentrarmi tanto sulla soluzione anziché sul problema. Poi da un giorno all'altro è successa una cosa molto importante, che al momento è stata molto molto dura. Secondo me chi affronta questo genere di cose è veramente un campione. Lo sport ho sempre sostenuto che è vita. È vita perché dentro lo sport c'è la disciplina, c'è il dedicarsi totalmente a qualche cosa, ma soprattutto a se stesso. E anche nella malattia è così. Si fa, nasce dall'unione dei due desideri, il mio e quello dei sileni. Un pochino è un gioco, nello stesso tempo mi rendo conto di un grandissimo impegno. Ma il mio sogno più grande è stare bene. E poi ce n'è uno grande che mi stimola molto, che è quello di vincere uno slam da coach. Ho costruito i miei sogni, li ho realizzati. Ho affrontato una malattia, ho aperto un locale. Beh, ora posso. Ho costruito i miei sogni.